buongiorno raga buongiorno oggi anziché stare in piscina eccetera o al mare andiamo a fare le escursioni sarà una giornata bella lunga perché tutto il giorno dobbiamo fare l'escursione andiamo alle piramidi c'è però un problema ora ve lo dico bene come inizio stavamo per perdere il pulmato il problema quale raga il problema è che sto usando la gopro ma la gopro ha avuto un problema con l'audio quindi dovrò cercare di filmare un po con l'iphone e magari filmare le immagini dove non parlo con la gopro sarà un po un casino ma siamo abituati ad arrangiarci devo dire sono molto molto stupito dell'organizzazione qua in messico seriamente nel senso a livello turistico io che ho soprattutto che vengo dalla sardegna ci fanno 10 a 0 tutti naturalmente parlano lo spagnolo e il portoghese che è la loro lingua ma tutti tutti parlano inglese ci sono miliardi di gruppi di tour organizzati miliardi di pullman è un'organizzazione super super top per per sfruttare al meglio il turismo cosa che in sardegna manca veramente tanto tanto in questo episodio non dovevo linkare nessun albergo nessuna compagnia aerea perché non abbiamo collaborato con nessuno per cancun ma ci ha organizzato tutto a fabri travel quindi vi metto il link qua sotto non mi sta pagando per farlo ma faccio quasi tutti i viaggi con lui e quindi devo ringraziarlo perché ogni volta fa mi organizza delle cose top top a presto stiamo per entrare in una delle piscine naturali più profonde del mondo credo il buco è alto 20 metri e l'acqua è alta 50 metri ora vi faccio vedere un po qua poi mangiamo e dopo andiamo alle piramidi raga lo faccio per voi dal vlog sto per commentare la nuotata appena fatta una delle esperienze più fighe della mia vita più che altro è perché il tutto è condito dalla storia del fatto che sia una piscina naturale maia di tuffarsi a nuotare in un posto così è veramente magico quindi se venite in messico dovete assolutamente farlo chiama si chiama esattamente se nota e maia ed è vicino a cc inizia ma sto diventando esperto dal pullman ci hanno già fregato come polli i due capelli ma c'è troppo caldo qua il cappello rosso comunque ragazzi siamo per entrare nelle piramidi se avete una gopro vi fanno pagare 45 pesos che sono circa 3 dollari se volete far volare un drone vi fanno pagare 6 mila dollari quindi non mi sembrava il caso di far volare il drone una cosa molto particolare è che nonostante siano state costruite tantissimi anni fa quando si fanno quando si fanno dei suoni quando si battono le mani dal tetto esce un suono molto particolare sembra quasi un uccello tipico del posto al ave che tiene una serpiente volando grazie a le due blumas in la colla vale? hai che cerrarli gli occhi e applaudire però come io eh stiamo facendo la visita guidata e sto scoprendo un sacco un sacco di cose sui maia e... raga questa la piramide di Cicenizza è specialmente il patrimonio dell'unesco ed è fra le sette meraviglia del mondo è per quello che quando arrivi qua ti senti un po' dentro i libri di storia perché si è sempre vista nei libri o in tv è una di quelle cose che quando vedi dal vivo ti lascia veramente senza parole è magnifica c'è veramente veramente caldo ma ne vale assolutamente la pena guardate qua come sapete raga gli episodi saranno un po' più corti e questi sono molto travel naturalmente perché siamo in vacanza domani andremo a scoprire un nuovo posto quindi inizierà un nuovo episodio del vlog e quindi questo lo voglio far terminare qua mi raccomando nel frattempo uscite divertitevi uscite con i vostri amici non bevete troppo fate quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samos Vlog un saluto da Cicenizza raga buona